Siamo qua per i cambiamenti climatici, siamo qua perché non si può più aspettare, siamo qua perché i politici di adesso, i potenti, non si rendono conto di quello che sta per succedere. Quindi noi vogliamo dirglielo come in un sacco di altre città di tutto il mondo, dal Brasile all'Australia, ovunque, 150 paesi mi manifestano, mi dice il nostro compare. Quindi, grazie a tutti, buona manifestazione, sarà una cosa pacifica, non spero che non succeda niente di male. Buona giornata!